W wissen vale il migliore quello fatto col cuore il Medio Giaomecano da 12 app a 14 app a Pabelloni e il 15 app a torre dei corsari non mancate il Medio Giaomecano Ho messo portato chiusa la violenza, contro la gente debole di questa terra, la sola soluzione per fermar sua maestà, è una rivoluzione baladanadanadan, non ho mai avuto amici nazi fasciolatron.